Io non so come la vedete voi la partita stasera, a parte con la televisione, però la vedo male purtroppo, la vedo male perché se partiamo con questo piede, se pare vero, io spero che sia pretattica, che cominciamo con Immobile, Lazzari, che non giocano proprio, non ho capito se l'Immobile se lo porta meno in panchina. L'Atalanta è una pari grado, è una delle sette sorelle, è motivata, c'è il dente avvelenato con noi, Gasperini soprattutto, daranno l'anima, giocano in casa, c'è qualcosa lì col sorteggio che ogni anno dopo che abbiamo vinto la Coppa Italia vogliono pulirci, esce sempre il 7 o l'8 praticamente sulle prime 8 in classifica, che devono cominciare dagli ottavi di finale, vabbè. Comunque è un sistema che alla fine dei conti premia le grandi, quindi non possiamo neanche lamentarci troppo perché non so come, se ci aiuta qualcuno dall'assù, il maestro, chi naglia, non lo so, fate qualcosa, soffiate, fate venire un acquazzone come quello di Perugia, perché l'Atalanta è favorita, secondo me, gioca quasi con i titolari, oltre a essere molto motivati, stanno in forma, anche noi non stiamo male, però noi lo sappiamo la vecchia storia dei nostri rincalzi. Comunque, sempre forza Lazio, se c'è una speranza di passare il turno, penso il 10%, è pomparli, farli come i nemici sono arrivati al derby, come sono arrivati loro tanti anni fa, battendo 3-0 a Juventus, 3-1, hanno battuto pure il nemico, insomma, devono pensare di asfaltarci, la squadra dietro deve essere compatta. Ne parlerò più avanti di musacchio, mustacchio, pistacchio, insomma, tanto io non sono di quelli che si lamenta, anzi, faccio sempre il mio e faccio sempre il tifoso prima di tutto. Oggi sto pensando alla Coppa Italia, è una partita importantissima, perché per noi, io sono del popolino, noi dovremmo iniziare ad accontentarci, o comunque dare il massimo e poi provare a recuperare in campionato, che in campionato c'è la possibilità, manca ancora mezzo campionato. Però non so se ci sono altri motivi, ho fatto il video perché la Lazio non fa mercato, infatti è arrivato sto musacchio. Secondo me è anche un problema economico che la Lazio deve cercare di arrivare quarti, quello viene addirittura prima di un trofeo adesso nel calcio moderno, quindi se ci piace il calcio dobbiamo accettarle queste cose, io sono più per i trofei, per la storia, per scrivere la storia. Però, magari è pure vero che poi passi un turno e poi esci a quello dopo con due infrasettimanali che ti compromettono di brutto campionato e l'altra competizione. Diamo tutto, forza Lazio e se volete far qualcosa, se non volete condividere questo video, andate sulle pagine dell'Atalanta e fateli sentire i più forti del mondo e questa è una delle soluzioni che abbiamo, oltre a qualcosa che si inventerà in Zaki, di vincere stasera con la formazione di riserva. Ok? Forza Lazio!